Ed ora parliamo di calcio mercato di Serie D perché il Chieti si è rinforzato a centrocampo, se ne parlava da giorni è arrivato lo svincolato Fabio Castellano, classe 98, ha militato in diverse squadre tra le quali Alessandria, Pistoiese, Ascoli, Andrea ed Atalanta nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Limolese. Altro obiettivo della società è il centrocapista croato Mario Verdoliak, classe 93, ex Grosseto, Bisceglie e Picerno. Il giocatore torna in Italia dopo l'esperienza con la Pibrera, squadra Macedone, salvo sorprese, l'ingaggio è molto vicino, in uscita risoluzione consensuale del contratto con Marco Benigni. Ricordiamo domenica tornerà il campionato di Serie D dopo le festività natalizie di fine anno, il Chieti affronterà in casa alle 14.30 l'Atletico Ascoli.